Il codice sconto JAXED ora vale il 15% in più Vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta Link in descrizione e nei commenti Reaction a Transformers in risveglio Secondo trailer Sono molto curioso Vediamo subito Vediamo Per secoli ci siamo nascosti sulla terra Chi è sta? Ah lo scimmione mi sa Ma la voce di Mr. Satan O sbaglio Qui è in gioco il destino Di tutti gli esseri viventi Eh si Unicron sta arrivando Unicron sta arrivando 1994 Ma non è ambientato ai giorni nostri Forte Non sono nessuno e non ho visto niente Non vedo niente neanche ora Questo potrebbe benissimo essere anche Fast and Furious Sono fighi i Transformers animali Con questi già è migliorata rispetto al primo trailer Eh si Meno male dai Meno male Alla fine Tutto quello a cui tenete Vegeta La voce di Vegeta Verrà divorato O no Forse c'è un'altra maniera per salvare il nostro mondo Non avete mai affrontato niente di simile Lascia che vengano Figo comunque Un trailer bello Bello carico Bello carico Madonna No sembra figo Sembra molto figo Ma poi guarda quanti Quanti creature diverse Quanti animali Wow Bello 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 Molto figo ragazzi Molto molto figo Ma io questo voglio da un film di Transformers Cioè deve essere così un film bello Bello carico di Insomma di Di azione Con una bella CGI Cioè Transformers alla fine voglio dire sono questo Non è che mi aspetto una trama particolarmente elaborata Tante robe fighe Tanti Transformers diversi Una buona CGI A posto Certo una trama Insomma che abbia magari un minimo di senso Però per il resto insomma Voglio che sia tutto bello figo da vedere Perché dai Transformers alla fine Devono essere un po' questo E direi che rispetto al primo trailer La CGI è migliorata Devo dire che è migliorata Si sono viste tante belle scene Veramente Veramente bello Veramente molto molto bello Mi piace Questo secondo me al cinema Ci sta assolutamente Tutto Sì Sì Mi piace ragazzi Mi piace Devo dire la verità Anche il design di questo Optimus Prime Che è molto più vicino Al design Diciamo del cartone animato Anche del giocattolo Dell'Hasbro È top ragazzi Anche queste creature Questi Transformers Animali Che non si erano mai visti Nei film Mi convincono Mi convincono Ci sta Ci sta Ma poi allora Il bello di questi Transformers Cioè il bello di questi Transformers Rispetto a quelli di McHole Bay È che si capiscono Che forma hanno Si capisce tutto Cioè non è che I Transformers di McHole Bay Porca miseria Quando combattevano Non si capiva più una mazza Talmente che erano fatti in maniera Molto simile tra di loro O comunque Avevano tante di quelle parti Meccaniche Che fuoriuscivano Che veramente Si Era un casino Quando più combattevano Qui invece ho visto Un trailer chiaro Immagini chiare Cioè si vede bene tutto Mi piacciono le forme Di questi due Transformers Questo nuovo design Cioè per me Possono fare sicuramente meglio Insomma Dei film di McHole Bay Si può fare veramente meglio E magari qualcuno potrebbe dire Non che ci voglia molto Però potevano anche Fare una grandissima cacata Raga Bello Bel trailer Ci sta Ci sta assolutamente tutto Mi gaso Un trailer che gaso Un trailer bello da vedere Bello Bello Mi ha convinto Dai ci sta Ci sta assolutamente